Sant'Agostino, casa d'aste, dal 1969. 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 Sant'Agostino, casa d'aste. Dal 1969. San Agostino, casa d'aste. Dal 1969. San Agostino. Casa d'aste, dal 1969. Sant'Agostino, 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 casa d'aste, dal 1969. dal 1969. Sagost'Agostino, casa d'aste, dal 1969. sagostino, casa d'aste, dal 19. Grazie a tutti 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 50 Grazie a tutti 64 al telefono 60 70 78 al telefono 86 86 90 in fondo 90 in fondo 90 100 al telefono 106 100 60 in fondo Il lotto numero 443, Felice Carena, natura morta, 1954, olio su tavoletta, lo potete vedere esposto, anzi no scusate l'altro Carena è esposto. 4.000 euro, la base d'asta da confermare, 4.000 da confermare, 4.44, Felice Carena, natura morta con cesto 1919, olio su tela, opera firmata e pubblicata da Fattoria Burri, Roberto Tassi e pittori dell'800 e 900. In Italia, riprodotto a colori, pagina 110, è un bel Felice Carena, 28.000 euro, la base d'asta da confermare, 28, 28, 28.000 euro, 28. Lotto numero 445, invece iniziamo la bella serie di Italo Cremona, sono uno più bello dell'altro. Il primo è la composizione con Caffettiera, febbraio 1927, studio per paesaggio urbano, esposto nel 1980 a Torino, Palazzo Chiablese ed è pubblicato sul catalogo generale dell'opera pittorica di Italo. Cremona viene messa in gara al prezzo di base d'asta di 5.000 euro da confermare, 5.000, sono uno più bello dell'altro i Cremona, 5.000, aspetto la conferma, 5.000 euro confermati in sala. Belli perché sono proprio belli, 5.000 euro per la prima, 5.000 euro per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3, su, posso vedere il numero della paletta solo, grazie, 3, 4, 9. Il successivo, invece, è la composizione con Cranio d'Airone, 1937, Olio su tela, opera pubblicata nel 49 alla prima mossa internazionale Art Club, nel 69 Firenze, ancora a Milano nel 71, pubblicato sul catalogo generale dell'opera del maestro, viene messa in gara al prezzo di base d'asta di 5.000 euro. 5.000, 5.000 euro. Sono uno più bello dell'altro, 5.000, 447, Italo Cremona, nel paese di Bucaneve, tecnica mista su carta, viene messa in gara al prezzo di base d'asta di 150 a 200 euro offerti al banco. 200 per il banco, banco, per il banco 200, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco. Ecco, il lotto numero 448, Italo Cremona, area di Torino, del 1959, pubblicato a piena pagina sul catalogo generale dell'opera pittorica del maestro, è bellissimo, e in più a corredo viene dato anche la scultura in gesso dipinto, che faceva parte, era nello studio di Italo Cremona, che aveva tutti questi gessi d'accademia, ed è stato molto verosimilmente pitturato, dipinto da lui, quindi pubblicato sul catalogo generale, vi dico solo questo. 10.000 euro la base d'asta che è stata già raggiunta, 10.000 euro per il banco, accetto 11.000, 10 banco, 11, 12 per me. 12.000 per me, confermato, vero? 12.000 per me, ho già un'offerta. 13, 14, 15 ancora per me, io mi fermo a 15. 15, 15 per la prima, 15 per la seconda, se non vedo altre offerte aggiudico a 15.000, 15.000, 16, 16 sala, accetto 17 dal telefono, 16 sala, non è più suo. 17 al telefono, 17 al telefono, telefono 17, 17 telefono, 17 per la prima, 17 per la seconda, se non vedo altre offerte aggiudico al telefono 17, 18 sala, sala 18, sala 18, accetto 19 dal telefono, 18 per la sala, 19 al telefono, telefono 19, 19, 19 per la prima, 19 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 19 telefono. Il lotto numero 449, il bellissimo studio di nudo con la mano, eccolo lì, il segno distintivo di Italo Cremona, 1966, 50 per 60, olio su tela, anche in questo caso pubblicato sul catalogo generale dell'opera pittorica del maestro. 3.000, 3.002, 3.004, 3.006, 3.008, 4.000 euro offerti al banco, 4.000 per il banco, il banco si ferma a 4.000, varie offerte, 4.000, 4 e 2, lei alla voce prima mi fa 4 e 2, mi fa 4 e 4, 4 e 4 alle sue spalle, 4 e 4, 4 e 4, 4 e 6, 4 e 8, 4 e 8, 5.000, 5, 5, 5, 5, 5, prossima offerta 5, 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 5 1950, Italo Cremone, la bellissima composizione con il ritratto della madre. 1938, Olio su te, la opera firmata, stra-pubblicata e stra-esposta, pubblicata sul catalogo generale dell'opera pittorica del maestro. Ha fatto tantissime esposizioni, 52, 62, 71, 74, 78, è stupenda, meravigliosa, capolavoro. 8.000 euro, la base d'asta confermata, 8.000, 8.500, 9.000, 9.500, 10, 11 e 12 per varie offerte ricevute al banco. Il banco si ferma a 12, intervenga la sala. 13, sala, 13 sala, aspetto 14, 13 sala, aspetto 14, 14 al telefono, telefono 14, per il telefono 14, 14 per la prima, 14 per la seconda, se sta bene a tutti a giudico, 1, 2, 1, 2, 3, 14, telefono. Il lotto numero 481, Giangasso Mantel, mercato 1941, Olio su Mazzonite, opera firmata, piccola rottura, 3.000 euro, la base d'asta da confermare, 3.000, 3.000, 3.000 conferma della base d'asta. 452, e il belletto rettito, famiglia in riva al mare, Olio su tavola, opera firmata, 3.000 e 5, la base d'asta da confermare, 3.000, 3.000, 3.000, 4.000, 3.000, 4.000, 3.000, e il bellissimo Lermans, i braccianti 100x60 a olio su tela che viene messa in gara al prezzo di base d'asta di 10.000 euro. Valentina mi confermi la base d'asta? 10. Confermata la base d'asta, perfetto. 10.000 euro confermata la base d'asta al telefono. 10.000. 10.000 euro per la prima, se non vedo altre offerte aggiudico. 10.000 euro per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3. 10.000, tuo. Il lotto numero 454 è una incisione acquatinta esemplare 19 di 50 di Pablo Picasso, pubblicata sul blog, il catalogo generale dell'opera litografica di Pablo Picasso. 3.500 euro è la base d'asta da confermare, 3.500. 3.500. 3.500. 4.500. Giorgio De Chirico. Studio d'albero, anni 50, carboncino su carta, autentica di Claudio Bruni su fotografia, ha una lieve abrasione nella parte superiore sinistra, viene messa in gara al prezzo di base d'asta di 6.000 euro da confermare. E' un bellissimo carboncino su carta di De Chirico. 6.000. 456. Antonietta Raphael Marfai, volto femminile, chino su carta, opera firmata, viene messa in gara al prezzo di base d'asta di 200, 250, 300 euro offerti al banco. Per il banco 300, 300, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, banco. Il lotto successivo, Donatella Pinto, natura morta, prime anni, 30, olio su tavola, pubblicato già nel 1935, ha fatto la mostra del sindacato interprovinciale delle arti di Puglia. A Bari, 1.300, è un bel quadro, 1.300 euro la base d'asta da confermare, 1.300, è un bel quadro, 1.300. Il successivo è un bellissimo quadro, il lotto numero 458, siete già con la mano alzata voi in fondo, perfetto, di Francesco Trombadori, Siracusa, 1.960, 6.000 euro la base d'asta confermata in fondo, 6.000, 6.000 in fondo, giusto? Mi avete confermato la base d'asta? Ah, il lotto precedente, allora torniamo indietro, scusate. 457, Donatella Pinto, 1.300 euro, mi conferma la base d'asta di 1.300 euro, perfetto, 1.300, 1.2, 1.2, 1.2, 1.3, è un bellissimo quadro. Successivo, il lotto numero 458, il bellissimo Francesco Trombadori, 1960, Olio Suttè, l'opera firmata, nel 1976 ha fatto la mostra antologica dell'opera di Trombadori, ancora nel 2007, la mostra presso la Galleria Civica Montevergi, Francesco Trombadori e la Sicilia, 6.000 euro la base d'asta da confermare al banco, 6.000. Il banco aspetta 6.000, bellissimo questo quadro, è stato pubblicato sulla copertina del catalogo, 6.000. Successivo, 459, e la prima di due, scultura di Trubescoi, Cane da pastore accucciato, scultura in bronzo, 1.800 euro, la base d'asta da confermare, 1.800, 1.800. 460, Trubescoi, ancora Trubescoi, invece in questo caso è la nuda sdraiata, la potete vedere lì, scultura in bronzo, opera firmata, 3.500, la base d'asta da confermare, 3.500. 461, Francesco Messina, Pianto d'Adamo, 1929, scultura in bronzo, è stato 1991-92, Parco della Valentina, proprio quest'opera, proprio lei è stata esposta al Parco della Valentina, Francesco Messina, mossa celebrativa per i 90 anni, è pubblicato, viene messo in gara al prezzo di base d'asta di 10.000 euro. confermati al banco, 10.000 per il banco, 10.000 per la prima, 10.000 per la seconda, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2. lotto numero 463, la testa di Gabriele di Umberto Mastroianni, del 39, terracotta tutto tondo, parere verbale favorevole di Floriano De Santi, la vista, 1.000 euro, la base d'asta da confermare, 1.000, 1.000, 1.000. 500, 550, la base d'asta confermata al banco, 550 per il banco, 600 al telefono, 650? 650 per la sala, sala 650, aspetto 700, telefono? per il telefono 700, 700 al telefono, 700 telefono, 750, sala, sala 750, sala 750, 750 per la prima, accetto 800, 750 per la prima, 750 per la seconda, 1.2, 1.2, 1.2, 3.4, 2. successivo è il bellissimo nudo di giovane atleta del 1936 di Umberto Mastroianni, ha una piccola mancanza alla luce destro, scultura in terracotta, nell'81 è stato esposto presso il forte del Belvedere, Umberto Mastroianni, pubblicato in bianco e nero, 6.000 euro, la base d'asta da confermare, 6.000, 6.000 euro da confermare, 6.000. 466, è il bellissimo Pierantonio Gariazzo, l'abbiamo messo vicino a Casorati perché è stupendo questo quadro, Giardini Cavour, 1941, olio su tavola, opera firmata, 600 euro sono stati confermati al banco, aspetto 650 dal telefono, telefono 650, Umberto? 650 per il telefono, telefono 650, è bellissimo questo Gariazzo, 650 per la prima, 650 per la seconda, 1.2, 1.2, 3. Successivo invece è Felice Casorati, casa di via Bernardo Gagliari o via Gagliari a Torino nel 1926, pubblicato sul catalogo generale dell'opera di Casorati, ha fatto anche altre esposizioni, comunque pubblicato sul catalogo generale dell'opera di Felice Casorati. Viene messo in gara al prezzo di base d'asta di 19, 20 offerti al banco, per il banco 20, 20 banco, il banco aspetta 21, altrimenti aggiudica 20, 20 per la prima, 20 per la seconda, 1.2, 1.2, 3. Banco. 468, continuiamo con Felice Casorati, questo bel nudo, un disegno su carta, a retro scritta per l'autentica del figlio Francesco Casorati, 1.500 euro, la base d'asta da confermare, 1.500, aspetto 1.500, conferma nella base d'asta, 1.500. 469, Felice Casorati, nudo femminile, matite su carta rintelata, autentica su fotografia, 2.200 euro, base d'asta confermata al telefono, 2.2, bellissimo questo nudo, 2.2, 2.2, 2.3, sala. 2.4, sala, 2.4 al fondo, il telefono, 2.4 al fondo, 2.4 per la prima, 2.4 per la, 2.5, sala, sala 2.5, 2.6 sala, 2.6 sala in fondo, 2.6 per la prima, 2.6 per la seconda, 2.6, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 3. 2.6 al fondo, 3.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.3, 2.6, grazie. Successivo è la maschera di Felice Casorati, la potete vedere lì, scultura in bronzo, esemplare 3 su 6, autentica di Bertasso, però del 1986, quindi 5.000 euro, la base d'asta da confermare, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Successivo, il Cassinari, questo è stato ritirato, passiamo quindi, scusate, il lotto numero 471 da catalogo è ritirato, passiamo al bel nudo grande di Bruno Cassinari Olio su tela, 92 per 130, già Galleria Mazzoleni-Turino è stato esposto nell'83 presso il comune di Piacenza, Palazzo Farnese Cassinari all'antologica, 20.000 euro la base d'assa da confermare, 20.000 Il banco aspetta 20.000, 20.000, 20.000, conferma della base d'assa di 20.000 euro, è bellissimo, 20.000 Il lotto numero 473, Xavier Bueno, bambina, 1958, olio su tavola, opera firmata, autentica su fotografia, rilasciata dall'archivio, quindi un'opera archiviata, 6.000 euro, la base d'assa confermata, 6.000 6.000 confermata, 6.000 per la prima, 6.000 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Banco Il lotto numero 474, Enrico Bai, la duchessa Sofia, 1999, è stato esposto nel 2002 presso la Galleria d'Arte Nuova G.C. Bai, opere scelte C'è anche il catalogo, accompagna l'opera, viene messo in gara a prezzo di base d'assa di 4.500 euro confermati al banco Banco 4,5, per il banco, 4,7, sala, il telefono mi offre 4,9, Umberto Molto bene, eravamo a 4,7 per lei, 4,7 per la prima, 4,7 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3, su Posso vedere, scusi, il numero della paletta? Grazie, 229 Il lotto numero 475, Remo Brindisi, Venezia, olio su tele Giagalleria Pace, Milano, timbro al retro, 300 euro, offerti al banco 300 per il banco, buonasera 300 per il banco, 300, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Banco 476, sempre Remo Brindisi, Venezia Opera autentica dell'artista al retro, parere verbale favorevole della Galleria Pace di Milano 400 euro, offerti al banco Per il banco 400, 400 banco, 400, 1, 2, 1, 2, 1, 2 477, Sante Monachesi Le amiche di Venezia, autentica dell'artista Su fotografia con timbro della Galleria d'Arte Parametro Roma, numero d'ordine, insomma, è archiviata 2.000 euro, la base d'asta da confermare 2.000 Il banco aspetta 2.000 2.000 da confermare 2.000 478, Remo Brindisi, Donna con Agnellino Viene messo in gara il prezzo di base d'asta di 400 euro Da confermare, confermati al banco 400 euro Banco 400 per il banco 400, 1, 2, 1, 2 Il 479 E' l'opera di Giuseppe Mignieco Coppia di innamorati, china colorata su carta Al retro, autentica dell'artista e ancora timbro della Galleria Parametro Viene messo in gara al parametro, scusate Parametro 500 euro, la base d'asta da confermare 500 Ancora 480, Mino Maccari, omaggio galante, opera firmata, 1.200 euro confermati al banco 1.200 per il banco, banco 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, banco 1.200, 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 1 è stata archiviata ed è stata donata dall'artista agli attuali proprietari 1000 euro la base d'asta da confermare 1000, il banco aspetta 1000 1000 483 Virgilio Guidi tessa dell'83 opera firmata donata dall'artista agli attuali proprietari scusa? 483 300 euro 300 il lotto numero 484 Carlo Levi, questa maternità autentica su fotografia rilasciata dalla fondazione Carlo Levi, opera registrata 800 euro offerti al banco 800 banco, banco 800 800 1 2 1 2 1 2 3 lotto numero numero 485 Giuseppe Cesetti Pasquolo 1935 olio su tavola 3500 euro la base d'asta da confermare 3500 Cesetti, Giuseppe Cesetti 3500 da confermare 486 486 Orfeo Tamburi il ponte rotto Roma 1955 fotografia del dipintore Canterreto dedica alla persona autografata dal pittore nel 55 è stato esposto a Venezia alla Biennale 4000 4000 euro la base d'asta da confermare 4000 4000 il banco aspetta 4000 successivo 487 Eso Peluzzi natura morta luglio 1937 olio su tela opera firmata è stato esposto presso il comune di Acquiterme 3000 euro la base d'asta da confermare 3000 il banco aspetta 3000 3000 488 è il primo dei due spazzapan questa è la primavera al parco Michelotti 1935 tempera su carta applicata su tavola è pubblicato sull'Angelo Dragone spazzapan catalogo generale 2005 la base d'asta da confermare pubblicato sul dragone 2005 da confermare 489 invece la bella deposizione di spazzapan del 45 e 46 anche in questo caso pubblicato sul dragone sul catalogo generale dell'opera 1100 1200 per me 1300 1400 1500 1600 per il banco il banco si ferma a 1600 il telefono mi offre 1700 1700 al telefono 1700 telefono 1800 sala 1800 aspetto 1900 1900 Doriana 1900 aspetto 2000 2000 2000 sala per la sala 2000 2000 sala aspetto 200 dal telefono 2000 sala per la prima 2000 sala per la seconda 12 123 24 7 grazie il lotto numero 490 remo squillantini signor in rosso aglio su tavola archivio galleria parametro opera firmata e archiviata viene messa in gala a prezzo di base d'assa di 1000 euro 1000 offerti al banco per il banco 1000 1000 1000 banco 1000 12 12 123 lotto numero 491 nino caffè pretini olio su tela autentica dell'artista su fotografia 2000 euro la base d'assa da confermare 2000 il banco aspetta 2000 2000 492 romano gazzera daglia gialla 1974 opera firmata 1200 euro la base d'assa da confermare 1200 aspetto 1200 ancora il 493 e il bellissimo quadro di Anna Sogno mercato della crocetta Turino 1963 olio su tela dalle belle dimensioni è bellissimo questo quadro poi proprio Turino il mercato della crocetta è colorato ci sono i banchi 800 euro la base d'assa da confermare al banco 800 800 euro 800 è bellissimo 494 iniziamo con il gruppo degli Schifano il primo è infine 1989 smalto acrilico e acrilico su tela autentica della fondazione multi studio 8000 euro la base d'assa da confermare 8000 autentica multi studio 8000 495 495 Mario Schifano 1997 smalto su tela autentica dell'archivio generale a cura della monte titano del 1997 1000 euro il successivo ancora 496 Mario Schifano acquatico 1989 smalto acrilico anche in questo caso l'autentica della fondazione multi studio di Milano 8000 euro confermati al banco 8000 per il banco banco 8000 1212 il successivo adesso invece iniziamo il gruppo dei Crippa Roberto Crippa spirale 1971 acrilico su carta rintelata arretto numerazione autentica del figlio Roberto Crippa arretto ci sono varie etichette 2000 euro la base d'assa da confermare 2000 2498 Roberto Crippa è un multiplo è una spirale ma è un multiplo 47 su 100 la base d'assa è 100 euro offerti al banco 100 per il banco 100 100 1 2 1 2 1 2 3 il successivo è il bellissimo Roberto Crippa degli anni 70 72 collage su tavola opera firmata archiviata presso le opere di Roberto Crippa viene messa in gara il prezzo di base d'assa di 3000 euro da confermare 3000 confermati in sala 3000 per la sala 3000 euro per la prima 3000 euro per la seconda 1 2 1 2 2 9 2 9 4 la paletta ora passiamo invece all'opera di Franco Angeli che potete vedere lì al fondo della sala half dollar smalto su tela all'autentica dell'archivio Franco Angeli rilasciata a Roma a giugno viene messa in gara al prezzo di base d'assa di 1500 1 6 offerti 1 6 non sono del web ma sono già offerti per dire 1 6 sono al banco banco 1 6 aspetto dal telefono 1 7 oh scusi 1 7 sala scusi scusi 1 7 sala sala 1 7 aspetto 1 8 dal telefono 1 7 sala non risponde 1 8 web 1 8 web web 1 8 1 9 sala 1 9 sala 1 9 sala 1 9 per la prima 1 9 per la seconda 1 2 1 2 1 2 3 suo 1 9 299 1 9 quando c'è anche il web guardo qui e non guardo più la sala scusate il lotto numero 501 Valerio Adami è una matita su carta autentica dell'artista su fotografia viene messa in gara a prezzo di base d'asta di 1000 euro già offerti al banco 1000 per il banco banco 1000 1000 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 banco successivo Carlo Accardi 1996 un pennarello su carta autentica su fotografia dello studio Accardi di Roma 2000 euro la base d'asta da confermare 2000 il banco aspetta 2000 2000 503 Renato Mambor bel paesaggio del 2008 acrilico su tela autentica dell'artista su fotografia 8000 euro la base d'asta ancora da confermare 8000 il banco aspetta 8000 conferma della base d'asta 8000 504 è la bellissima scultura di Tarantino di Giuseppe Tarantino i 12 segni zodiacali del 1950 che potete vedere all'ingresso è un unico esemplare acquistata dagli attuali proprietari direttamente dall'artista esemplare unico 1 basta viene messo in gara a prezzo di base d'asta di 1200 euro per il banco banco 1200 aspetto 1300 2003 dal telefono Doriana Doriana altrimenti io giudico a 1200 al banco 1300 per Doriana Doriana 1300 Fiola 1400 1300 Doriana Fiola 1400 Fiola 1300 per la prima 1300 per la seconda 1212 12 tuo Doriana 1300 il successivo è il bellissimo Piero Ruggeri Dharma 2 del 1962 che ha partecipato già nel 62 alla Biennale di Venezia è bellissimo questo Ruggeri è venuta anche la famiglia a vederlo e mi ha detto che c'è qualcosa di simile in collezione alla gamma 12.000 euro la base d'asta da confermare 12.000 12.000 12.000 è bellissimo questo Ruggeri 12.000 successivo e invece sono è una tecnica missa sempre di Ruggeri del 72 opera firmata 300 euro la base d'asta da confermare 300 300 507 Piero Ruggeri composizione del 72 disegno a biro opera firmata 300 euro la base d'asta da confermare 300 508 Piero Ruggeri composizione 1968 disegno a biro 300 euro 300 509 Piero Ruggeri ufficiale del 73 olio su tela parere verbale favorevole della fondazione Ruggeri 1200 la base d'asta da confermare 1200 Napoleone insomma ufficiale 1973 1200 510 Piero Ruggeri verde nel bosco del 97 tecnicamista opera firmata viene messa in gara a prezzo di base d'asta di 700 area 700 700 511 Piero Ruggeri del 66 opera firmata provenienza galleria dall'ara Torino 600 euro confermati al banco banco 600 600 1 2 1 2 3 512 Piero Ruggeri paesaggio 800 euro la base d'asta da confermare 800 ancora il 512 paesaggio scusate 513 passiamo a Sergio Saroni pesce 1000 euro la base d'asta da confermare è il lotto numero 513 1000 514 sempre di Sergio Saroni in questo caso è un paesaggio del 57 2000 euro la base d'asta da confermare 2000 2000 il successivo invece è la tecnica mista su cartoncino ma non è una tecnica mista bensì ha telefonato il professor De Santi è una serigrafia di fatto è un retouché è un pezzo unico perché è un retouché però una serigrafia non è una tecnica mista quindi serigrafia retouché ridipinta 33 per 23 500 euro offerti al banco per il banco 500 banco 500 500 1 2 1 2 ancora il lotto numero 516 17 ritirati 518 Umberto Mastroianni del 50 opera firmata inchiostro 150 euro confermati al banco per il banco 150 150 1 2 1 2 1 2 1 2 2 successivo 519 Umberto Mastroianni composizione astratta 300 euro la base d'asta da confermare 300 300 il successivo è il bellissimo 500 l'8 520 che potete vedere al fondo di Umberto Mastroianni composizione astratta degli anni 60 sicuramente non l'abbiamo scritto sul catalogo ma è degli anni 60 perché è stato fatto per la casa degli attuali proprietari e quindi Mastroianni è andato proprio a casa a fare quest'opera perché era parente era cugino della proprietaria della casa viene messo in gara al prezzo di base d'asta di 4.000 euro me lo confermi? allora volevo sapere se è confermata la base d'asta del Mastroianni e poi iniziamo la gara 4.000 euro confermati al telefono 4.000 aspetto 4 e 2 è bellissimo è quel Mastroianni 4 e 2 in sala 4 e 2 aspetto 4 e 4 dal telefono mi conferma il telefono 4 e 4 4 e 4 al telefono 4 e 4 al telefono 4 e 6 sala 4 e 6 4 e 8 al telefono 4 e 8 al telefono 5.000 5 e 5 5 e 5 5 e 5 telefono 5 e 5 6.000 sala 6.000 sala aspetto 6 e 5 dal telefono 6 e 5 al telefono 6 e 5 telefono 7.000 sala 7.000 sala è bellissimo 7.000 sala 7.000 telefono 7.000 telefono 7 e 5 7 e 5 8.000 sala 8.000 sala per la sala 8.000 8.000 sala aspetto 8 e 5 telefono 8 e 5 8 e 5 telefono 8 e 5 per la prima 8 e 5 per la seconda 1 2 1 2 3 telefono 8 e 5 il lotto numero 521 è la tecnica mista di Luigi Veronesi che è stata esposta nel 94 e 20 miglia ed è registrata presso il comitato Luigi Veronesi quindi archiviata 700 euro offerti al banco banco 700 per il banco ci sono i capelli che vanno 700 1 2 1 2 1 2 3 banco 700 il successivo è il bellissimo disegno tecnica missa su carta di Fausto Melotti l'opera è firmata il dipinto è stato archiviato non è in fase di archiviazione ma bensì è stato archiviato l'abbiamo portato a Milano l'hanno archiviato per cui verrà pubblicato sul catalogo generale di prossima stampa è possibile presso controllare l'archivio Melotti ma è stato archiviato era in collezione privata ma è uscito da questa collezione privata 4.000 euro la base d'assa che è stata confermata sul web aspetto 4 e 2 dai telefoni 4 e 2 dalla sala sala 4 e 2 per la sala aspetto 4 e 4 dai telefoni 4 e 4 Doriana per Doriana 4 e 4 Doriana 4 e 4 4 e 6 sala sala 4 e 6 aspetto 4 e 8 4 e 8 telefono 5.000 sala aspetto 5 e 5 5.000 sala aspetto 5 e 5 fiola fiola 5 e 5 è bellissimo 5 e 5 6.000 sala sala 6.000 sala 6.000 aspetto 6 e 5 telefono fiola 6 e 5 fiola 6 e 5 7.000 sala sala 7.000 7 e 5 7 e 5 telefono 7 e 5 7 e 5 fiola possono intervenire anche gli altri telefoni 7 e 5 fiola 8.000 8.000 sala per la sala 8.000 8 e 5 fiola fiola 8 e 5 fiola 8 e 5 8 e 5 per la prima 8 e 5 per la seconda 8 e 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 8 e 5 fiola il successivo è la scultura in ferro di Giuseppe Uncini che abbiamo preso direttamente a Roma dall'orofo di Uncini è una macchetta realizzata per il concorso delle opere di scultura da eseguirsi per la nuova sede della Biblioteca Nazionale di Cassopretorio a Roma c'è la Biblioteca Nazionale a Cassopretorio e questa è una macchetta che è stata realizzata proprio per quel concorso viene messa in gara al prezzo di base d'asta dono dell'artista all'attuale proprietario viene messa in gara al prezzo di base d'asta è molto una grandezza giusta sta bene sul tavolo l'abbiamo messa di là 4.000 euro offerti al banco 4 e 2 ancora per il banco il banco si ferma 4 e 2 aspetto il telefono 4 e 4 4 e 4 telefono la sala può intervenire 4 e 4 telefono è bellissima 4 e 4 4 e 4 per la prima 4 e 4 per la seconda se non vedo altre offerte giudico al telefono 4 e 4 1 2 1 2 1 2 3 2 Umberto allora adesso iniziamo con la serie invece di caro Rama il lotto numero 524 la corona di Keaton 1993 sono lì le opere di caro Rama sono il primo ed è il 93 pennarelli su carta dedicata a personam viene messa in gara al prezzo di base d'asta di 1.000 euro offerti al banco 1.000 per il banco banco 1.000 aspetto 1.100 dal telefono 1.000 vorrei sapere Fiola se mi offre 1.100 1.100 Valentina 1.200 1.100 Fiola 1.200 Valentina Valentina 1.200 aspetto 1.300 1.300 confermati da Fiola aspetto 1.400 1.200 1.200 Fiola 1.200 Fiola 1.200 ah scusate 1.300 1.300 Fiola mi dovresti soltanto aggiornare scusate solo un secondo 1.300 siamo perché se no non mi trovo allora 1.300 Fiola scusatemi 1.400 aspetto 1.400 1.300 Fiola 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 1.300 Fiola il lotto numero 525 del 1993 pennarello su carta autentica dell'archivio caro Rama provenienza atelier dell'artista 700 euro confermati al banco 700 banco aspetto 750 dal telefono 750 Fiola telefono 800 800 l'altro telefono aspetto 8.50 8.50 quanto? 900 alla voce 900 Fiola alla voce 900 9.50 Valentina Valentina 9.50 1000 Fiola Fiola 1000 Fiola 1000 aspetto 1100 1100 confermati da Valentina 1100 confermati da Valentina aspetto 1200 1100 1100 Valentina 1.2 1.2 sala 1.2 sala 1.2 1.2 per la prima 1.2 per la seconda se sta bene a tutti aggiudico 1.2 1.2 3 326 grazie ora passiamo all'otto numero 526 una bellissima dorina del 1944 rarissima ce ne sono soltanto tre esemplari matita carta colorata acquerello e tempera su carta autentica dell'archivio caro rama è una chic stupenda viene messa in gara al prezzo di 900 euro 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2200 223 24 25 offerti 26 vale ben di più 26 aspetto 27 27 Andrea 28 Anna alla voce 29 Fiola 3000 3000 alla voce aspetto 32 3000 5000 direttamente alla voce aspetto 5 aspetta mi devi 5 e 5 aspetto 5 e 5 fatti 5 e 5 fatti aspetto 6000 7000 alla voce 7000 Anna alla voce aspetto 7 e 5 7 e 5 Johnny Johnny 7 e 5 mi confermi 8000 sala sala 8000 sala 8000 aspetto 8 e 5 aspetto 8 e 5 Johnny 8 e 5 Johnny aspetto 9000 8 e 5 Johnny aspetto 9000 9000 Anna alla voce mi conferma 9 e 5 sala 9 e 5 sala aspetto 10.000 9 e 5 sala 10 alla voce 10 Johnny 10 aspetto 11 11 sala sala 11 sala 11 sala 11 aspetto 12 12 al telefono 12 al telefono per Johnny 12 12 12 13 13 13 una lotta tra padre e figlio 13 Armando 13 Armando 13 telefono 14 sala 14 sala sala 14 come 15 15 alla voce 15 Johnny Johnny 15 15 Johnny 16 sala 16 sala 16 sala 16 sala sala 16 16 per la prima sto per battere 16 per la seconda 16.000 1 2 1 2 1 2 1 2 su complimenti posso vedere il numero della paletta per favore grazie 312 312 312 16 312 il lotto numero 527 Riccardo Cordero dell'87 pubblicato sull'opera di Riccardo Cordero testi di Bellini 5.000 euro e all'ingresso la scultura 5.000 euro la base d'asta da confermare 5.000 5.000 da confermare 5.000 successivo artista internazionale Domoto del 58 opera firmata 5.000 euro la base d'asta da confermare 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 529 Vasco Bendini e al fondo della serie gesto in materia del 72 esposto nell'8990 a Verona all'antologica 9.000 euro la base d'asta da confermare 9.000 9.000 euro da confermare aspetto la conferma della base d'asta di 9.000 euro 9.000 successivo Manabu del 62 tempera su carta 1.000 euro la base d'asta da confermare 1.000 1.000 531 Mark Tobey del 61 monotipo e tecnica missa su carta è stato già nel 90 la stacrisis opera firmata 6.500 la base d'asta da confermare 6.500 aspetto la conferma della base d'asta di 6.500 euro 6.500 532 Gianni Dessi olio e tecnica mista autentica dell'artista su fotografia 8.000 euro confermati al banco banco 8.000 per il banco 8.000 se non vedo altre offerte aggiudico al banco 8.000 1.2 1.2 1.2 3 banco il lotto numero 533 sono gli sciatori a clinico su cartone di Ugo Nespolo 2.000 euro la base d'asta da confermare 2.000 il banco aspetta 2.000 2.000 534 ancora di Ugo Nespolo cinema acrilici su tela 4.000 euro la base d'asta da confermare 4.000 535 la bella scultura di Ugo Nespolo è bella la torre del 1997 sono dei pezzi sovrapponibili una sull'altra è firmata 5.000 euro la base d'asta da confermare 5.000 5.000 il lotto numero 536 Mattia Moreni Gallo e Gallina del 46 china su carta 350 euro da confermare 350 350 537 Mattia Moreni grado 1951 opera firmata 1.000 euro da confermare 1.000 538 Pierluigi Bellacci architettura dell'anima del 2004 tecnica mista opera firmata 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 euro offerti al banco 1.600 per il banco 1.600 1.600 per il banco 1.600 1.200 1.200 1.200 539 Vanni Viviani e Carlo Nangeroni percorso 1973 opera firmata registrata presso l'archivio e pubblicata viene messo a un piccolo foro in corrispondenza del cerchio di sinistra allegati autentiche e timbro e libro citato quindi regaliamo anche il libro viene messo insieme all'opera 1.500 euro confermati al banco 1.500 per il banco 1.500 1.200 1.200 1.200 successivo Giuseppe Amadio è una tela estroflessa lo potete vedere lì a fianco all'ischifano opera firmata autentica dell'artista 1.500 euro da confermare al banco 1.500 1.500 successivo il lotto numero 541 Amadio Giuseppe tela estroflessa certificato di autenticità viene messo in gara al prezzo di base d'assa di 150 euro 150 successivo il lotto numero 542 Giuseppe Amadio libro che sia colore dell'anima tela estroflessa autentica dell'artista 1.000 euro da confermare al banco 1.000 il banco aspetta 1.000 euro 1.000 successivo 543 Eugenio Carmi dell'83 opera firmata e datata 500 euro da confermare 500 500 500 500 l'avevo vista anche se va bene va bene 500 500 euro per la prima per la seconda 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 scusi posso rivedere il numero della paletta perché non grazie 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 aspetto 2.000 545 Eugenio Carmi ricordo di bocca d'ass del 2006 opera firmata e datata tecnica messa su tela 2.000 confermato al telefono scusate al banco 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 546 è il bellissimo positivo negativo di Bruno Munari del 92 rombolato collage etichetta dell'artista autentica su fotografia siete tutti quanti collegati con i telefoni posso iniziare 1.000 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 2.000 Fiola 200 200 200 Valentina 2.2 Umberto Umberto 2.2 2.3 Fiola Fiola 2.3 Aspetto 2.4 2.4 Valentina Valentina 2.4 Aspetto 2.5 2.5 Umberto Umberto 2.5 Aspetto 2.6 2.5 Umberto Aspetto 2.6 2.5 Umberto Per la prima 2.5 Umberto 2.6 2.6 Telefono 2.6 Gianluca Aspetto 2.7 2.6 Gianluca Aspetto 2.7 2.7 Umberto Umberto 2.7 Aspetto 2.8 2.8 2.8 Gianluca Gianluca 2.8 Aspetto 2.9 2.8 Per la prima 2.8 Per la seconda 1.2 1.2 1.2 1.2 3 Grazie Gianluca 2.8 Gianluca Mi auguro che non si siano invertiti le telefonate Bene Il lotto numero 547 Sempre di Bruno Munari Negativo positivo del 51 Opera firmata intitolata tecnica mista su carta Qui partiamo da 200 euro 250 300 350 400 450 500 550 600 750 700 750 800 800 800 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1700 1700 1700 Anche 1800 1200 17 18 18 Gianluca Gianluca 18 18 Aspetto 1900 1900 19 Fiola 19 Fiola Fiola 19 Aspetto 2000 Gianluca 2000 Gianluca 200 Fiola 200 Aspetto 22 22 Gianluca Aspetto 23 23 Fiola 23 3 Fiola, aspetto 2, 4, 2, 4 Gianluca, aspetto 2, 5, 2, 5 Fiola, Fiola 2, 5, aspetto 2, 6, 2, 6 confermati, aspetto 2, 7, 2, 7 confermati, aspetto 2, 8 confermati, aspetto 2, 9, 2, 9 confermati, aspetto 3, 2, 9 Fiola, aspetto 3, 2, 3, 2 confermati, aspetto 3, 2 confermati, Fiola, aspetto 3, 4, 3, 2 confermati, 3, 4 confermati, 3, 6 Fiola, Fiola 3, 6, aspetto 3, 8, 3, 8 confermati, aspetto 4,000, 4,000 confermati, aspetto 4, 2, 4,000 confermati, 4 e 2 confermati, aspetto 4 e 4, 4 e 4 confermati, 4 e 4 confermati, aspetto 4 e 6 confermati, 4 e 6 confermati, aspetto 4 e 8, 4 e 8 confermati, aspetto 5.000, 4 e 8 Fiola, aspetto 5.000, 5.000, 4 e 8 Fiola, per Fiola 4 e 8, 4 e 8, 5.000. 5.000, aspetto 5.5, 5.000, aspetto 5.5, 5.000 per la prima, 5.000 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 5.000. Lotto numero 548 Aldo Mondino, acrilico su tela, opera firmata, autentica dell'archivio. Viene messa in gala il prezzo di base d'asta di 2.000 euro, 2.000, 2.000, 2.000, 549, sempre Aldo Mondino, dell'83, autentica con fotografia rilasciata dall'archivio di Milano. 3.000 euro, la base d'asta da confermare, 3.000, 3.000, 550, e il bellissimo Luigi Mainolfi, da grande, opera firmata, adattata e dedicata a Personam, opera ricevuta direttamente dall'autore, è venuta la figlia a vedere l'opera, la figlia dell'artista. viene messa in gala il prezzo di base d'asta di 5.500 euro, confermati. 5.500, Johnny, devi ancora collegarti? Allora dimmi quando sei pronto. Così io mi siedo un istante. Domani poi vado in vacanza. Comunque 5.500 è tuo, no è suo, è suo 5.500 per il telefono, 5.500 è suo, 5.500 se non vedo altre offerte aggiudico al banco e quindi a te, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 5. Il lotto numero 551, Omar Ronda, Marilyn Frozen, 2.500, tecnica mista, autentica dell'artista su fotografia, pubblicata sull'Omar Ronda, 5.000 euro, la base d'asta da confermare, 5.000, aspetto 5.000 di conferma di base d'asta, 5.000. Successivo 552, Antonio Carena, del 55, opera firmata, 600 euro confermati al banco, 600 banco, 600, 1, 2, 1, 2, 6.50, 6.50 laggiù, 6.50, 6.50 in fondo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 6.50 suo. Lo, 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 si, insomma è mio ma non è mio ovviamente, 553, Davide Pieretti, Peiretti, Davide Peiretti, nel 1966, opera firmata, tecnica mista, 200 euro, la base d'asta da confermare, 200, 200 da confermare, 554, Antonio Carena, acrilico su cartoncino, opera firmata, 250 euro confermati, 250, 250 per la prima, per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3. Il lotto numero 555, Daniele Fissore, green del 2001, olio su tela, autentica dell'artista su fotografia, 500 euro, la base d'asta da confermare, 500, 500, 500, 556, Gilardi, Piero, Piero Gilardi, cascata di cocomeri, bosco incendiario e tronchi di betulla, opere firmate, tecnica mista su carta, 400 euro, la base d'asta da confermare, 400, Piero Gilardi, 400, di fatto l'ultimo artista dell'arte povera ancora vivente, 400, il primo gruppo, 400, ancora 557, il bellissimo Agno Morlotti, che potete vedere dietro i telefoni, cactus, 1979, olio su tela, io avevo una telefonata, non la vedo più, me l'avete tolta, va bene? 6.000 euro, la base d'asta da confermare, aspetto la conferma della base d'asta di 6.000 euro, 6.000, Egno Morlotti, 558, Piero Gilardi, uva e fiore di zucca, poliuterano espanso, opera firmata e intitolata al retro, con numero di catalogazione, 3.000 euro, la base d'asta da confermare, 3.000, 50 per 50, 3.000. 5.000 euro, la scuola di Casorati, bambina al sole, piccolo foro al centro, 500, 550, 550, banco, aspetto 600 dal telefono, Valentina 600, 600, per Valentina 600 telefono, 650, sala, Sala 650, 700 telefono, 750, sala, 750, sala, 800 telefono, 800 telefono, per il telefono 800, 850, sala, 850, sala, 900 telefono, 900 telefono, 950, piccolo consulto di famiglia, 900, 1, 2, telefono, 950, sala, sala 950, 1000 telefono, 950, sala, 950, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 2, Il lotto successivo, la moglie di Casorati, natura morta, olio su tela, viene messo in gara al prezzo di base d'asta di 300, 300, è intervenuto il web, lei è in sala per cui fa lei, allora 300, 350, 400, 450, 500, 550 per mio il web, offre 600? 600, 600, 600, 650, 700 per me, 700, 700 il mio, aspetto il web, 700, 750, 800 per me, 800, 800, 800 per la prima, 800 per la seconda, 800, 1, 2, 1, 2, 3, 800, 800, banco. Il lotto numero 561, sempre Daphne, paesaggio a Saint-Tropez degli anni 50, opera firmata autentica del figlio Francesco Casorati su fotografia, 400, 450, 500, 550, 600 euro offerti al banco, Valentina mi offri 650? Perfetto, 600 banco, per il banco 600, 600, 1, 2, 1, 2, 3, 500, 562, sempre Daphne, Torino 1968, opera firmata, olio su tela, 450, 500 euro offerti al banco, 550, 600 banco, banco 600 per il banco, 600, 600, 650, 700, 700, volevo far risparmiare, 750, 800 per me, volevo far risparmiare, 800, 800, 800 banco, per il banco 800, 800, 800, 1, 2, 1, 2, 3, grazie, ciao, 800. Il lotto numero 563, Nino Aimone, Torero, 1958, chino su carta, opera firmata e datata, 1,000 euro, la base d'asta da confermare al banco, 1,000, il banco aspetta 1,000. 564, Giulio da Milano, sacra di San Michele, del 52, periodo FOV, si vede dai colori, autentica dell'artista su fotografia, già galleria Fogliato, 1,800 euro confermati al banco, 1,800 banco, per il banco 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco. 565, sempre Giulio da Milano, signora Conveletta, negli anni 30, olio su tela è stata rintelata, opera firmata, 500 euro da confermare al banco, 500, 500, 500, 566, qui abbiamo una piccola Eva Menzio, un ritratto della figlia del pittore Francesco Menzio, Eva Bambina, degli anni 40, olio su cartone, opera firmata, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, web. Web, web, 1400, aspetto 1500 dai telefoni, 1500, 1500 Doriana, per Doriana 1500, aspetto 1600, 1600 Valentina, 1600 Valentina, 1700 Fiola, 1700, 1700 Fiola, 1800, 1700 Fiola, 1800 Doriana, 1800 Fiola, 1800. 1.900, aspetto 2.000, 1.900 Fiola, 1.900 Fiola per la prima, guardo soltanto il web, 1.900 Fiola per la seconda, 1.2, 1.2, 3, 1.900, tuo Fiola, è arrivato troppo tardi, battutissimo proprio. Vi prego sul web di fare subito le offerte, tanto non ha senso aspettare. Il 567, Giulio da Milano, scorcio cittadino, china acquarellata su carta, opera firmata, viene messa in gara a prezzo di base d'asta di 50 euro offerti al banco. Banco 50, banco 50, 1.2, 1.2, 1.2, 3, banco. Successivo Gigi Chessa, Natura morta, degli anni 30, olio su te l'opera firmata, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 1.900, 2.100, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5 e tu, 2.5 aspetto 2.6, 2.6 web aspetto 2.7, 2.7 giorni aspetto 2.8, 2.7 giorni aspetto 2.8, 2.8 confermati, 2.8 Claudio, 2.9 giorni, 2.9 giorni, 3.000 offerti, 3.000 già offerti qui Claudio, Claudio, 3.000, aspetto 3.2, 3.2 in fondo Anna, aspetto 3.4, 3.4 confermati Claudio, 3.4, 3.6 giorni, giorni 3.6, aspetto 3.8, 3.8 qui, 3.8, aspetto 4.000, 4.000 giorni, giorni 4.000, aspetto 4.2, 4.2 Anna in fondo, 4.2 Anna in fondo, 4.2 Anna, 4.2 per la prima, 4.2 per la seconda, se va bene a tutti io giudico a 4.2 Anna, 1.2, 1.2, 3.4, 2 Anna. Allora, il lotto numero 569, Enrico Paolucci, colline del 72, pastelli a colori su carta, autentica dell'artista su fotografia, opera registrata presso l'archivio Paolucci, 300 euro, la base d'asta da confermare, 300, 300, 570, Enrico Paolucci, paesaggio collinare degli anni 70, pastelli su carta, opera registrata presso l'archivio delle opere di Paolucci, 300 euro, anche in questo caso la base d'asta da confermare, 300, 300, successivo 571, Enrico Paolucci, paesaggio del 1980, olio su tele, autentica dell'artista su fotografia, registrato presso l'archivio delle opere e esposto nel 2005 a Barolo. Viene messa in gara a prezzo di base d'asta di 1.200 euro, 1.200, 572. Enrico Paolucci, il podo al Valentino del 76, guazzo su carta, opera firmata e registrata presso l'archivio delle opere di Paolucci, 300 euro, la base d'asta da confermare, 300, 573, Enrico Paolucci, il porticciolo, olio su tele, autentica dell'artista, viene messa in gara a prezzo di base d'asta di 3.000 euro, 3.000, 3.000, successivo 574, Enrico Paolucci, Marina, acquarello su carta, viene messa in gara a prezzo di base d'asta di 500 euro offerti, 500 offerti, 500, 1, 2, 550, mi scusi non la vedevo proprio, mi scusi, 550, 600 Valentina, 550 sala, 600 Valentina, 600 per Valentina, Valentina 600, Valentina 600, 600, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 600, Valentina. Il lotto successivo iniziamo con i Morando, Pietro Morando, albergo della Corda, opera firmata, per il verbale favorevole della galleria, suave, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700 offerti. Io ho ancora il Paolucci perché, ah scusate, sì, un attimo, mi riposo un secondo, adesso mi. Ero passata al successivo, guardavo il catalogo, allora, il 575, scusate, Enrico Paolucci, Barche, 1953, olio su tela, opera firmata, viene messa in gara a prezzo di base d'asta di 3.000 euro, Enrico Paolucci, il 575, 3.000 euro, 3.000, 576. Ci siamo, Pietro Morando, iniziamo con Pietro Morando, albergo della Corda, olio su tela, parere verbale favorevole della galleria, suave, che si occupa dell'opera di Pietro Morando, viene messa in gara a prezzo di base d'asta di 1.300, 1.400, 1.500, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000 euro offerti. 2.000 euro offerti, aspetto da Fiola, 2.000, 2.000, 2.000, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, banco. 577, un fiacchettaio di fatto, sempre di Pietro Morando, olio su tela, opera firmata, 1.800 euro da confermare al banco, 1.800, conferma della base d'asta di 1.800 euro, 1.800, successivo 578, Pietro Morando, Gagliando e la sua vacca, tecnica missa su cartone, opera firmata e dedicata, 2.000 euro da confermare al banco, 2.000. 579, il bel concerto, un carboncino a matita su carta intelata, autentica dell'artista, esposto da Narciso nel 71, 1.200 euro, la base d'asta da confermare, 1.200. Invece adesso iniziamo con Itabusso. Il lotto numero 580, no, mi dovreste, ok, Valentina non ha più la telefonata, vero? Chi mi può trovare Valentina? No, perfetto. Il lotto numero 580 è un bellissimo Francesco Tabusso del 2007, i contadini, opera firmata, viene messa in gara al prezzo di base d'asta di 13.000 euro da confermare, aspetto alla conferma della base d'asta di 13.000 euro, 13.000. 581, Francesco Tabusso, racconto russo con Troika, sì, esattamente, perché ha preso i precedenti, quindi viene messo in gara il prezzo di base d'asta di 11.000 euro, 11.000, ancora da confermare al banco, 11.000. Successivo, sono bellissimi questi Tabusso, Francesco Tabusso, funghi, tecnica mista su carta, opera firmata, 300 euro da confermare al banco, 300, 300 euro. lotto numero 583, Francesco Tabusso, notturno a rubiana, gufo o civetta, tempera su carta, 100 euro, offerti al banco, 100, banco, banco, 100, 1, 2, 1, 2, 3. 584, Francesco Tabusso, nuda di schiena, grazie, sant'uomo, nudo di schiena, tecnica mista su carta, opera firmata, 250 euro da confermare al banco, 2, 50. lotto numero 585, è un autoritratto di Tabusso con modella, porcella, tecnica mista su carta, opera firmata, 300 euro, la base d'asta da confermare, 300, 586, Francesco Tabusso, Alice nel paese delle meraviglie, tecnica mista su carta, 350 euro da confermare, 350, 586, sempre Francesco Tabusso, dal parmigianino, tecnica mista, opera firmata, 400 euro, 400, 588, Francesco Tabusso, ragazza nuda, 500, 589, Francesco Tabusso, bosco di betulle, sono stati offerti, 400 euro, 400 per il banco, banco 400, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 590, Francesco Tabusso, bagnante stanca, 300 euro da confermare, 300, 591, coppia di modelle, sempre di Francesco Tabusso, 350, offerti al banco, per il banco 350, 350, banco, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 592, Francesco Tabusso, Merlo Conciliegio, 62, 63, pubblicato, Elena Pontigio, viene messa in gara a prezzo di base d'asta di 1,500, 1,600, 1,700, 1,800, 1,900, 2, 200, 2, 2 e mi fermo, il banco si ferma a 2, 2, aspetto 2, 3 da Fiola o dalla sala, 2, 3 Fiola, Valentina 2, 4? No? 2, 3 Fiola, per Fiola 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sembra una fila strocca, Fiola. Allora, il lotto numero 593, Arnos Paderlich, il pittore e la modella, Olio su masonite, opera firmata, 800 euro, la base d'asta da confermare. Doriana, mi confermi la base d'asta di 800 euro al telefono? Sì, allora io mi siedo, poi mi dite, poi dopo quando vi siete capiti nella lingua. No? 100 euro, ho bisogno della conferma della base d'asta. 800 euro confermati al banco, tramite il telefono, 800, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 800. Il lotto numero 594 è il primo dei Colombotto Rosso, poi facciamo tutto il gruppo surfanta. Iniziamo con Colombotto Rosso, 594, Enrico Colombotto Rosso, Gattomanzia, Olio su carta applicata su tavola, 2.000 euro, la base d'asta da confermare, 2.000, il banco aspetta 2.000. 595, Gatto Bianco, Enrico Colombotto Rosso, autentica dell'artista, 1.200 euro da confermare, 1.200. 1.200. 596, Enrico Colombotto, gatto bianco, tecnica mista, difetti, 800 euro, 800. 597, Ponte Corvo, Raffaele Ponte Corvo, 200 euro offerti al banco, 2.50 offerti al banco, Banco, banco 2.50, per il banco, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, successivo, Enrico Colombotto Rosso, volto, lieve fessurazione, 350 euro, 3.50, 3.50 sala, per la sala 3.50, sala, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, su, posso rivedere? Scusi il numero, grazie, 3.50, successivo, 599, Enrico Colombotto Rosso, volto femminile, bellissimo, rosso, sfondo rosso, 600 euro, la base d'asta da confermare, aspetto 600 dalla sala o dai telefoni o dal web, 600, 600 euro, 600, 600, 600, sì sì, che c'è? Lo so, 600 sala, 600, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 3, così bello, 3.4, 6. Lotto numero 600, Raffaele Ponte Corvo, simbolo femminile, del 76, viene messo in gara a prezzo di base d'asta di 4.50, offerti al banco, per il banco 4.50, 4.50, 1.2, 500, in fondo, 500. 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 3, 2.500, 2.55, a volte mi stupisci, lotto numero 601, Enrico Colombotto Rosso, due gatti bianchi, olio su tele, autentica dell'artista su fotografia, 3.500, da confermare al banco, 3.5, 3.5, 602, Abba Cook, Silvano Gilardi, figura, olio su tavola, 400 euro, da confermare al banco. 603, Lamberto Camerini, Giulietta e Alfa Romeo, 1977, 250, offerti al banco, 250, 300 Sala, 300 Sala, 300, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 300, 300. 604, Lorenzo Alessandri, Aura, del 97, carboncino su carta, 150 euro, ancora da offrire, aspetto la conferma della base d'asta di 150 euro, 150. 605, Mario Molinari, dialogo triste tra figure immobili del 62, 1,000 euro, la base d'asta da confermare, 1,000, 1,000. 606, Lorenzo Alessandri, del 94, olio su cartone pressato, 250 euro, confermati al banco, 250, 250, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 607, Lorenzo Alessandri, del 94, 250 euro, da confermare al banco, olio su cartone pressato, 250. 608, Lorenzo Alessandri, del 94, olio su cartone teleato, 250, da confermare al banco, 250. 609, Bambola, del 59, di Alessandri, olio su masonite, opera firmata, 1,500, da confermare al banco, 1,500. 610, Lorenzo Alessandri, Bambola, del 59, opera firmata, ed esposta nel 62, cortina d'ampezzo, 1,500, da confermare, 1,500. 611, Ottavio Steffenini, nudo, olio su tela, 400 euro, confermati al banco. Ce lo doppio, ma va bene, 400, non so, 400, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Banco, 612, Renato Borsato, donna sul canale, 400 euro, olio su tela, 400 euro, da confermare al banco, aspetto, 400. 613, Giorgio Bellandi, indossatrice, del 57, olio su tela, 500 euro, da confermare al banco, 500. 614, Michele Baretta, figura femminile, 1,000 euro, aspetto, 1,000. 615, Tino Aime, vaso e fiori, del 70, opera firmata, 500 euro, confermati al banco, 500, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 616, Marcolino Gandini, olio su tela, 500 euro, da confermare al banco, 500. 617, Tino Aime, grandi solchi nelle langhe, del 71, 500 euro, 5, 50, 600, 6, 50 offerti al banco, 6, 50, banco, per il banco 6, 50, 6, 50, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 618, Ugo Bartolini, interno del 63, 300 euro, la base d'asta, da confermare al banco, 300. 619, Tino Aime, natura morta, olio su tavola, opera firmata e dedicata, 500 euro. 620, Giuseppe Aimone, Aimone, perché in questo caso è Aimone, fiori bianchi, del 64, opera firmata, 1,000 euro, da confermare al banco, aspetto, 1,000. 621, Massimo Quaglino, il Toro, del 62, Carboncino, 200 euro, offerti al banco, 200, banco, banco, 1, 2, 1, 2. 622, Pietro Annigoni, volto, sanguigna, 500, 550, 600, il telefono, 600, Dorian Nucci, 600, 600, 1, 2, 1, 1, è vero, io qua non ce l'ho, è vero, 650 per me, per me 650, aspetto, 700 da te, 750, 800, volevo fare 200 per me, aspetto, 8,50, 8,50, valida, 8,50, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, Doriana. 623, Adolfo Merlone, Italia Austerity, del 73, olio su tela, 250 euro, da confermare, 250, 624, Massimo Quaglino, è un colloquio del 64, olio su tela, viene messo in gara, prezzo di base d'asta di 2,000 euro, da confermare al banco, il banco aspetta 2,000. 625, Francesco Casorati, processione del 57, olio su tela, 500 euro, da confermare al banco, 500, 500, 500, sala, 500, è suo, 500, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, scusate, 626, Pipporiani, strutture morfologiche, 11, studio per numero 1, la storia della pittura, marzo del 63, viene messo in gara, prezzo di base d'asta di 600, 650, 700 euro per il banco. Banco, banco 700, banco, 700, 1, 2, 1, 2, 3, 627, Pipporiani, lettrice, 29, 33, in caos, graffito su cartone, gessato, opera firmata, autentica dell'archivio. 1.500, da confermare, aspetto 1.500, autentica dell'archivio, 1.500, 628, iniziamo con l'Annunziante che sono lì al fondo, Antonio Annunziante, mattino luminoso del 2005, olio su tela, opera firmata, allegata a fotografia dell'archivio, viene messa in gara, prezzo di base d'asta di 3.000 euro, 3.000, 3.000. 629, Antonio Annunziante, sogno, nel 2005, olio su tela, opera firmata, archiviata, 3.000 euro, la base d'asta da confermare, 3.000, Annunziante, 3.000. 630, Antonio Annunziante, interno, silente, olio su tela, opera firmata, con autentica, 3.000 euro, la base d'asta da confermare, 3.000. Successivo, Uberto Bonetti, Stupinigi, aerovista, tecnica missa su carta, pubblicata, Bonetti, anni 30, l'Italia dell'aerovista di Uberto Bonetti, 1.200, 1.200, l'aeropittura, 1.200. 632, Agostino Ferrari, del 92, tecnica missa, autentica dell'artista su fotografia, 800 euro, la base d'asta da confermare, 800, 800. 633, Ibrahim Khodra, suonatore di chitarra, olio e tecnica missa su tela, autentica dell'artista, 1.000 euro, 1.000. 634, Dino Buzzati, il volo, tecnica mista, 800 euro, 8.50, 9.00, 9.50, 1.000 banco, banco 1.000, Doriana 1.100, 1.100? 1.100? Era il telefono da un... 1.100? Sala 1.100, aspetto, 1.200? 1.100 sala, 1.200 web, 1.200 web, 1.300 sala, 1.300 sala, 1.300, 1.200 web, 1.500 sala, 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 1 Duecento, sala, sala duecento, duecento sala, duecento per la prima, duecento per la seconda, uno due, due due, web, due tre sala, sala due tre, due tre per la prima, due tre per la seconda, due tre, uno due, uno due quattro, web. 2, 5 sala, sala 2, 5, 2, 5 per la prima, 2, 5 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 5, sala. Il numero della paletta, sai chi è? No? Ok, 3, 8, 6, 2, 5, 3, 8, 6. Il successivo, il lotto numero 635, Dino Buzzato, interno surreale, viene messo in gara a prezzo di base d'asta di 800 euro offerti sul web, 800 web, 8, 50, sala, 1, 1, 100, 1, 100, 1, 2, telefono, 1, 3, sala, 1, 3, sala, 1, 4, telefono, 1, 5, sala, 1, 5, sala, 1, 5, sala. 1, 1, 5, per la prima, 1, 5, per la seconda, 1, 6, web, 1, 7, sala, 1, 7, sala, 1, 7, per la prima, 1, 8, web, 1, 9, sala, sala, 1, 9, sala, 1, 9, 2, mila, web, web, 200, sala, sala, 200, 200, sala, 200 per la prima, 2, 2, web, 2, 3, sala, sala, 2, 3, sala, 2, 3, sala, 2, 3, 2, 3, per la prima, 2, 3, per la seconda, 2, 4, web, 2, 5, sala, 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 2, 5, sala, 2, 5, sala, 2, 5, per la prima, 2, 5, per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 5, di nuovo 3, 8, 6. Il lotto numero 636, Dino Buzzati, profili, tecnica missa su carta, 800 euro ancora da confermare al banco, 800 confermati, confermati 800, 800 per la prima, 800 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3, misteri della vita, no, già fatto, mi siedo un secondo. Lotto numero 637, Lebenstein, Ian Lebenstein, animale fantastico del 63, disegno collage su carta, 1,300 euro la base d'asta da confermare. Umberto, mi confermi 1,300 euro la base d'asta? Confermata la base d'asta al telefono. Umberto, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Giovanni Dova, Gianni Dova, scusate, piccola presenza, Bretagna 1971, autentica del comitato promotore dell'archivio e catalogo ragionato delle opere di Dova, 2, 5, devono essere ancora offerti al banco. Valentina, mi confermi 2, 5? Benissimo, molto bene. Aspetto, 2, 5. Segreteria telefonica, abbiamo soltanto un numero? Va bene, andiamo avanti, poi magari domani lo chiamiamo, ci ricordiamo, lo scriviamo. Lotto numero 639, Mario Rossello, una storia del 62, olio su tela, 500 euro la base d'asta, ancora da confermare, 500, aspetto 500, successivo 640. Giacomo Soffiantino, un po' di natura del 72, 600 euro la base d'asta, da confermare, 600. 641, sempre Giacomo Soffiantino, la poltrona di Vimini, olio su tela, 600 euro da confermare, 600. 642, Romano Perusini, la prima cellula vivente, nel 65, collage su carta, 1000 euro da confermare, 1000. Aspetto 1000. 643, Valentino Vago, acrilico su carta, opera firmata, 1000 e 2 da confermare, 1000 e 2. 644, Sergio Sarri, studio per esperimento, 74, 75, 1000 e 5 confermati al banco. 1.500, banco, 1.500, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, banco. 645, Ausonio Tanda, personaggi e pesci, 150, 200 euro per il banco, banco 200. Doriana, 250? 200, banco, 200, 1.2, 1.2, 1.2. 646, Ausonio Tanda, personaggi e pesci, ancora, tecnica mista, 150, 200, Doriana non 250, 200, 1, 2, 1, 2, 3. 647, eccola lì è la scultura di Felice Tosalli, Maria e Gesù del 49, 500 euro, 550 per il banco, banco 550, Anna 600, 600 Fiola, dove è Anna? 650, sei tu, 650, aspetto 700, Valentina 650, 700 Fiola? 650 per Valentina, 700 Fiola, Fiola 700, aspetto 750, Valentina, aspetto 800, 750 Valentina, 750 per la prima, 800, 800 Fiola, per Fiola 800, 8,50, 8,50 Valentina, aspetto 900, 8,50 Valentina, 8,50 per la prima, per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3, Valentina, 8,50 Adesso iniziamo con i berrino, il primo sono le portatrici di acqua, è l'otto numero 648 del 2004, olio su tela, opera firmata, 1,500 euro, la base d'asta da confermare, 1,500, 649, 649, Didi, Casale, Frizzoni, coppia di dipinti con vaso di fiori, 600 euro, la base d'asta da confermare, 600, 650, Mario Berrino, giorno di pioggia del 66, opera firmata, viene messa in gara, prezzo di base d'asta di 300, 350, 400 euro offerti al banco, 400 banco, Doriana, 450, 450, sala, sala, 450, aspetto 500 dal telefono, 450, sala, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, suo, avrei bisogno soltanto di vedere la paletta, 2, 0, 7, grazie, 4, 50, successivo sempre di Mario Berrino, ragazze e ragazze nel bagnasciuga del 1994, olio su tela, 1,000 euro, la base d'asta da confermare, 1,000, aspetto 1,000, conferma della base d'asta, 1,000, 652, Mario Berrino, notturno, marina con pescatori, olio su tela, 1,200, confermati al banco, banco 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 3, banco, il 653, Vanna Nicolotti, bianco e nero, del 2002, tela tagliata e dipinta, 50x50, 1,500, la base d'asta da confermare, 1,500, 1,500, 654, Umberto Mariani, specchio, ottobre 1987, 2, 2, da confermare, 2, 2, 655, il dinamismo di Gian Maria Potenza, scultura in bronzo, fusione a cera persa, autentica dell'artista, 2, 5, la base d'asta da confermare, 2, 5, lì la scultura, 2, 5. Bene, vi ringrazio di aver aspettato la fine dell'asta, le persone in sala, ci vediamo domani mattina alle ore 10 con i gioielli, ancora alle ore 15 con i gioielli, alle ore 20 con gli orologi, da mercoledì sarà disponibile per il ritiro qui in galleria, e ancora ci saranno a disposizione le opere, ancora che aspettano un compratore. Il giorno dell'ipancolata, l'8 dicembre, saremo aperti, vi aspettiamo, grazie e a domani alle ore 10. Grazie a voi, grazie. Grazie. Sant'Agostino, casa d'aste, dal 1969. 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 Sant'Agostino, casa d'aste, dal 1969.